Se mi sei vicino, ti prendo per la mano, per camminare insieme a te. Se mi sei vicino, ti prendo per la mano, per camminare insieme a te. Noi siamo studenti del montale, amiamo la verità, cerchiamo la vera libertà. Facciamo solidarietà, e se mi sei vicino, ti prendo per la mano, per camminare insieme a te. Finale! Per camminare insieme a te. Ma ragazzi, questo era il riff della potenza. È il pezzo rock, altro che il maneskin, altro che il rolly stone, composto nel 1972. Apriremo i maneskin che aprono i rolly stones. Che bravo! Sarà un aprieto generale. Ancora solo! Ancora solo! E ora si è compiuta la salvezza, il regno del nostro Dio, è la potenza di Gesù Cristo. Rido perché qui c'è il consiglio con la presa. Sì, però va bene, vuoi sentire, va bene così. Esultate tutti i cieli, voi che abitate in essi, tra le grade e le gioite, la sua gloria in mezzo a noi. E attacchiamo con me. E attacchiamo con me. E tutto è vanità. E tutto è vanità. E tutto è vanità. E tutto è vanità. Tutta vanità Meglio la fine del principio Gli uomini sono come le bestie Meglio la fine del principio Gli uomini sono come le bestie Meglio la fine del principio Gli uomini sono come le bestie Meglio la fine del principio Gli uomini sono come le bestie il battesimo di Gesù nel Giordano il battesimo di Gesù nel Giordano tutta è vanità tutta è vanità tutta è vanità tutta è vanità Maria madre del Do questo è il primo concerto al montane all'aperto davanti al montane il sole nel tuo cuore solo amore Maria madre di Dio e madre nostra tu sei la più bella tu sei la stella che ci guidi nel nostro cammino verso la casa del Giordano tutti siamo Maria madre dell'amore Maria madre del Signore nei tuoi occhi c'è il sole nel tuo cuore solo amore cosa fa una persona che esce? Se ne va uscito se ne andò sul monte degli ulivi anche gli scevoli lo seguirono ed egli dissevano pregate per non entrare in tentazione 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 viva Gesù viva Gesù viva Gesù oggi è nato viva Gesù viva Gesù viva Gesù viva Gesù oggi è nato mille le stelle che brillano lassù una sola è scesa qua giù ci porta la tosse anche questo è Gesù riguardati anche questo è Gesù del Dio bambino il Redentore è nato per noi viva Gesù viva Gesù viva Gesù oggi è nato viva Gesù viva Gesù viva Gesù oggi è nato non sono all'altezza di questo pezzo ma ce la farò il nostro capolavoro assoluto è il più bel pezzo che ha scritto Timolino il vivente la storia signore in te spera il mio cuore si ravvivi il mio spirito ho preservato la mia vita alla forza della distruzione che ti sei giuttato dietro le spalle tutti i miei peccati il vivente il vivente ti rende grazie come io come io come io oggi faccio il vivente il vivente ti rende grazie come io oggi faccio il vivente il vivente il vivente ma te la ricordi questa? il vivente il vivente il vivente è un po' giusto è saggezza la sapienza è un po' difficile questo è desiderio di conoscenza attenta la sapienza è potenza è un po' difficile è un po' difficile senti che accordo di luce infinita infinita che penso salutiamo il pubblico ciao a tutti dal liceo montale oggi 2 novembre 2021 lucio il grande lucio il grande Sergio alle riprese lui riprende dal 2013 si è 10 anni che riprende l'ode e gioia è il mitico il mitico Sergio non ci fermiamo mai per questa gioia che ci dà il Signore in questa scuola così mitologica è meravigliosa capolavoro è un'emozione è un'emozione è come stare davanti all'altare della patria lo so l'altare della patria della scuola della scuola la loda e gioia non ci abbandoneranno mai grazie a tutti ragazzi siete fantastici bravo si bravo grazie a tutti